E' stata per me una sorpresa e devo dire che contrariamente alla prassi che avevi dovuto seguire quando mi è stato chiesto se accettavo, ho detto subito di sì. Avrei dovuto fare una riserva magari qualche settimana per chiedere anche ai miei superiori, tutti i permessi, ma ho pensato siamo in guerra, c'è questo premio che consiste in questo aiuto che devolvo alla Siria, poi ecco il coinvolgimento anche di Verona, eccetera, eccetera. Allora ho detto, c'è quella frase, alla guerre come alla guerre, cioè qua ci sono regole particolari e poi farò una sanazione e chiederò il permesso poi, e difatti poi parlando a tavola di una cena a Roma con il segretario di Stato ho detto guardi che ho accettato per così e così perché questo premio io lo dedico alla Siria. La Siria è sempre presente nei suoi pensieri, lo dedica alla Siria in modo molto concreto, con tre ospedali, due a Damasco, uno ad Aleppo, sono cattolici ma accolgono tutti. Ecco, l'iniziativa è sorta nel mio cuore, nel mio pensiero circa tre anni fa, quando vedendo la situazione disastrosa del settore sanitario in Siria, basti pensare il 54% degli ospedali e centri sanitari sono fuori uso per la guerra oppure lavorano solo parzialmente, ecco, visitando i nostri te ospedali cattolici gestiti da congregazioni religiose femminili, tra cui una congregazione italiana delle suore salesiane e vedendo che lavoravano solamente in parte, ecco, lavoravano il 30%, dovevano chiudere dei reparti e ho detto questo non possiamo accettarlo, ecco, c'è una spiegazione perché non potevano lavorare nel pieno delle loro capacità, perché moltissime fabbriche sono state distrutte, la gente non ha lavoro, quindi non ha l'assistenza mutualistica, gli ospedali non possono recuperare dall'assistenza mutualistica, le spese sono enormi, il costo dell'elettricità che ha le stelle, del gasolio all'inverno e quindi erano in questa situazione, ne ho parlato al Papa, ai suoi più stretti collaboratori e mi hanno dato tutto l'appoggio, il Papa la sua benedizione, il suo incoraggiamento e poi come fare a partire, ecco, lì mi è venuto providenzialmente in aiuto questa ONG che ora adesso è fondazione, si chiama AFSI che è legata a comunione e liberazione, sono presenti sul posto, gente molto competente, molto seria e hanno fornito la loro expertise.